Ma la Chiesa ha anche scelto, in un cammino di riflessione, di sbarcare su Twitter, di essere presente nella rete. Che percorso è stato e perché è importante questa presenza? È un percorso non facile ma direi assolutamente tradizionale. La Chiesa, sin dai tempi della radio, è stata pioniera nell'essere dentro il mondo della comunicazione come un ambiente vitale, diciamo. Perché la Chiesa deve annunciare il Vangelo, quindi vive nel mondo della comunicazione. E diciamo che Twitter in modo particolare lo ha fatto con una decisione molto precisa, presa da Benedetto XVI. Perché in fondo la riflessione di fondo è una riflessione missionaria. Cioè la Chiesa per statuto proprio deve essere lì dove sono gli uomini per annunciare il Vangelo. E oggi gli uomini sono in rete, comunicano in rete non solo i propri pensieri ma anche i propri sentimenti, i propri desideri. Quindi la Chiesa ha deciso di essere esattamente lì dove ci sono gli uomini, dove avviene la conversione, la conversazione tra gli uomini. Grazie. 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 Grazie.